A sorpresa che il governo italiano riduce le tasse per le fasce più deboli. Una notizia arrivata dopo sette ore di Consiglio dei Ministri che ha approvato il taglio dell'IRPEF, ma che sarà finanziata con l'aumento di un punto delle quote dell'IVA. Soddisfatto il primo ministro Mario Monti. Abbiamo voluto dare il chiaro segnale che quando ci sono segni di stabilizzazione ci si può permettere qualche moderato sollievo. L'aumento dell'IVA scatterà da luglio, ma sarà di un solo punto, dal 10 all'11 e dal 21 al 22%. Il solo aumento dell'IVA non basterà però a finanziare la riduzione delle tasse.